Siamo quasi Siamo quasi Siamo quasi Siamo quasi Quindi La parte più difficile Nel caso dell'utilizzo E poi la ricollutura Siamo quasi Ancora piccolo bollino Lo andiamo a eliminare L'ultima piccola parte di bollo Impercettibile Andiamo A riparare Ancora Ancora Lasciamo asciugare Dovremo esserci Sì, sì Andiamo a ribattere E il bollo E il bollo E' riparato Ancora 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 Grazie.